Ciao, sei stufo di praticare le routine di allenamento per le tue mani da solo a casa? Lo trovi poco entusiasmante? O forse non ce l'hai nemmeno una routine giornaliera che ti permette di tenere le tue mani allenate? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E sospetto già la risposta che stavi per darmi. Potrebbe essere il tipo... Eh beh sì, in effetti non è che lo trovo così divertente. Oppure stavi pensando a una risposta tipo... Ma Ruggero, ma di cosa stai parlando? Che cos'è una routine giornaliera per tenere allenate le mie mani? Allora lascia che ti spieghi che cosa mi è venuto in mente per trasformare questa parte dello studio da noiosa e monotona a un evento imperdibile ed entusiasmante. Fai bene attenzione alla proposta che sto per farti, sei pronto? Ho pensato che potremmo trovarci tutti i mercoledì sera alle 21.30 in diretta qui dalla pagina Facebook di The Drum Booster per un evento che si intitola Sticks and Pad Nights. Sticks and Pad Nights è il primo workout in diretta che ti aiuterà a sviluppare potenza, velocità e controllo delle tue mani in un modo coinvolgente e divertente. Sono sicuro che una cosa del genere non l'avevi mai vista prima. Se la cosa stuzzica la tua curiosità allora metti subito un mi piace sulla pagina Facebook di The Drum Booster e iscriviti al gruppo Strumenti per il Batterista Intelligente in modo da ricevere sempre la notifica che ti permetterà di non perderti questo appuntamento. E in questo modo finalmente potremo studiare insieme. Per cui dopo che hai messo il like alla pagina e ti sei iscritto al gruppo tieni d'occhio le notifiche perché solo così potrai sapere quando pubblicherò i nuovi video e quando inizieremo questo imperdibile appuntamento. Bene, prima di salutarci voglio dirti che seguiranno altri video dove ti spiegherò più nel dettaglio di che cosa si tratta. Per cui per il momento è tutto. Ricordati di mettere il like sulla pagina e di iscriverti al gruppo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!